allora 28 passi per memorizzare un esame in due giorni fate 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 non è bene ho mentito ho mentito perché in realtà simone lo sa stavo scrivendo un giorno perché io lo facevo in un giorno c'è adesso ci sono esami commerciali di ritorno europeo che ho preparato in sei giorni con un giorno di memorizzazione e quindi stavo scrivendo un giorno e simone ha fatto io un giorno non ci credono cioè allungo un po' e ho detto vabbè allora metto due giorni per stare larghi proprio in due giorni ci vuole piole un gana, piole un caffè, piole un birro ogni tanto invece però se lo volete fare un giorno si può fare anche in un giorno quindi che andiamo a fare in questo percorso andiamo praticamente a cerco di trasmettervi tutte quelle cose che vanno al di là della tecnica che sono della tecnica stessa che vi possono portare a ottenere lo stesso risultato che ho ottenuto io o gli altri ragazzi che sono riusciti a ottenere il risultato perché mi sono accorto che alcuni studenti ci riuscivano subito altri invece come alcuni di voi sicuramente dicono eh ma io sì ho applicato però non tanto solo di alcune cose e mi sono accorto che ci sono dei dettagli delle cose che alcuni studenti fanno e altri no ok? ho cercato di prenderle più le cose che facevo io perché io che cosa ho dovuto fare? io mi sono... queste cose che stanno nel videocorso che stanno qua è roba mia cioè nel senso l'ho dovuta estrarre da quello che ho fatto io perché io utilizzo un metodo un po' particolare che quelli dello staff chiamano il metodo Giuseppe cioè non funziona una cosa io premo tutti i tasti a caso fino a quando così con l'autorisponditore delle mail a fare il sito io faccio cose a caso fino a quando non succede quello che voglio che succeda e la stessa cosa è successa anche con il palazzo cioè io la mia ragazza, la mia ex ragazza mi diceva tu sei intelligente non lo so se mi voleva consolare però non dai gli esami perché in un mese cambi 30 metodi di studio ristudi le stesse 10 pagine 30 volte in 30 modi diversi e arrivi al momento dell'esame che se avessi studiato con il metodo più merdoso del mondo comunque ce l'avresti fatta perché quella era la mia ossessione cioè io dovevo trovare il modo di farlo e io ogni giorno allora dovevo mettere quegli schemi riassunti comunque dovevo tre giorni no i riassunti perdo tempo no devo tornare a schematizzare no ma che se fanno vai a evidenziare vai a evidenziare madonna mia no no devo ripetere un'altra voce ma non mi ricordo niente vai a schematizzare un'altra voce e facevo questo 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 fino a quando non boh o per una botta di culo o perché si sono allineati i pianeti come vi dirò sono riuscito a farlo ed è quello che vi voglio trasmettere oggi non ho mentito fino a molti ho mentito no devo ripetere tutto da capo no allora quindi quello che andiamo a fare è questo andiamo a scomporre il processo perché vi devo costringere come vi ho costretto ora ad utilizzare no non si può potrò mai imparare i venti amminoacidi come i pazzi invece sì ve l'ho fatto fare la faccia vostra mi ho costretto a far andiamo avanti con il primo passo allora il primo passo è quello di superare la paura del palazzo in cinque step ok perché come ho detto prima se voi avete paura del palazzo avete paura di applicarlo dove andiamo? cioè non è che ve lo spiego se poi non l'ho applicato quindi vediamo prima di cioè rimuovere l'ostacolo principale allora tranquillo non si è diverso il tuo cervello non è differente ok perché i ragazzi dicono no ma io non sono portato no io non sono fatto così se io sto parlando ora a voi è perché io sono una persona meno portata che conosco per il palazzo agli altri si formano le immagini davanti agli occhi a me no se ho memorizzato mazzicarti in quarto minuti lo potete fare tutti pure mia madre mia nonna a mia nipote di otto anni ho fatto memorizzare i venti capolughi di regione in ordine di abitanti in otto minuti a tutti i miei nipoti quindi o siete più stupidi che un bambino di otto anni oppure dovete applicare il palazzo mi dispiace quindi non si è diverso ci sono cose scientifiche che si basano su principi di neurologia giusto? no? sì neurologia allora giocati le birre con le tue amiche rompi allora che cosa vuol dire? vuol dire che come ha detto Andrea lo dovete trasformare in un gioco cioè io all'inizio appena ho scoperto le tecniche le ho trattate come un trucco di magia cioè facevano la vicina persona vuote memorizzare e lo faceva la mia famiglia la mia famiglia mi diceva oh bravo bravo e io mi diceva e io sono bravo e poi sono andato sono andato stavamo bevendo una birra con con stavamo bevendo una birra con i miei amici scommettete che memorizzo dieci parole in due minuti così comunque lo faccio era all'inizio quindi ci metteva il succo di tempo sono tutti un bezzo ubriaco così e comunque lo faccio cioè avete visto poi i miei amici mi sfidavano quindi metteva tutte cose strane uno era di medicina metteva no mitosi e quindi e facevo là e l'ho fatta la mia amica fa eh vabbè ma dieci parole che ci vuole ci fa boh ah sì ma sta stronza tornavo a casa e mi allenavo su venti parole così ritornavo ai miei amici hai venti parole ah allora venti parole così ah no ancora di più comunque tornavo a casa comunque sono passato da che ah 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 è bravo e poi professori che pure appure gli è piaciuto questo fatto e mi hanno primiato pure loro ma perché sono partito dai miei amici cioè dovete partire dal presupposto che questo è una specie di superpotere un trucco di magia che potete fare il fatto che un trucco di magia a me piace molto questa frase che sto utilizzando molto come mio motto cioè impara a superare i tuoi limiti per insegnare alle persone che attorno che si può fare cioè questa qua è è una delle cose più belle che cioè è una delle cose che mi hanno sempre ispirato cioè ho sempre cercato di dimostrare perché sono andato a Marcianisi vai giù cioè sinceramente cioè immaginate da chi ero circondato da persone da Raffaele ciao Raffaele Raffaele è un altro come me è quello che quello che ti tiene insieme sono limiti 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 no tu puoi fare questo non puoi fare questo tu devi andare là le femmine in cucina i maschi devono andare invece a lavorare il pane a casa cioè io sono cresciuto in una famiglia che mia nonna ha detto chi fa il primo figlio maschio si vede tutta l'eredità e se non la toglie quindi quello che dovete fare è questo cioè mettervi in testa che è semplicemente si deve fare perché va fatto perché è un modo per far uscire fuori le vostre potenzialità e quando ci riuscite voi ci riescono anche le persone attorno a voi e avere tanti nipoti che stanno là e le mamme gli dicono guarda Gio Giuseppe è un genio Gio Giuseppe fai gli fuori i compiti e poi scusi in realtà perché mi do metto i cellulof e i compiti perché sennò cazzo Geronimo allora uno dei ero in dubbio perché non voglio che la fraintendiate questa cosa ok mi promettete che non fraintendete si non fraintenderemo non fraintenderemo ripetete si non fraintenderemo brava allora la prima volta che sono riuscito ad applicare tutto il metodo appunto per Geronimo cioè mi sono buttato a kamikaze in un esame che era diritto dell'UE qualcuno la sa questa storia di diritto commerciale nessuno nessuno tu li guardi i miei video uno che guarda i miei video allora qual è la qual è la cosa è che io ero a dicembre di due anni fa ok e stavo preparando commerciale a un certo punto però mi rendo conto che cioè mentre sto studiando sto studiando vedo che è annuale quindi non lo posso fare a gennale e io dico minchia cioè ho perso un mese e ora che faccio e l'unico che potevo dare era diritto dell'Unione Europea che è l'unico di cui avevo il libro però era il 30 dicembre e l'esame era tipo l'otto quindi a capodanno mica puoi studiare il primo mica puoi studiare il secondo stiamo ancora a recuperare la sbornia e il terzo iniziazione quindi avevo tipo sei giorni e lì quindi otto 4 giorni di schematizzazione un giorno di memorizzazione e cioè quando hai 40-50 schemi davanti a te o comunque quando hai sei giorni sei costretto ad applicare la strategia di matito universitario in tutto e per tutto perché non c'è scappatoio è l'unico modo per farlo cioè non è alternativa devi per forza fare il kamikaze e non avevo niente da perdere in quel momento perché non potevo fare nient'altro che quello quindi in quel momento là sono stato costretto a farlo sono andato lì dopo sei giorni nel frattempo andavo a bere andavo a scioprire andavo a scioprire la birra studiavo mentre bevevo la birra mi ricordo ancora all'America Barra Piazza Verde a Bologna e comunque vado a fassare l'esame io completamente cioè disilluvavo sei giorni così andavo a vedere com'è faccio lì questa fa ok 30 comunque grazie grazie mi sento un ladro tipo che mo mi scoprono fammi uscire dall'università fammi tornare a casa e la prima cosa è che culo la prima impressione la seconda impressione è stata wow però me la sono giocata proprio bene e se la replico hai detto mamma 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 ho fatto una cosa incredibile ho detto prima l'altro sei giorni ora in un mese provo a fare quattro esami ma perché quattro proprio tre no ma perché proprio quattro non esagerare ed effettivamente poi ci sono riuscito ok quindi quello che vi consiglio io vabbè lo do troppo dopo l'esercizio però cercate di crearvi le condizioni per rischiare in un esame senza perdere troppo ok tipo questo qua di sei giorni vabbè poi vi spiego vi do pure un trucchetto per farlo poi non andare al conservatorio imparare la canzone del sole questa qua l'ho presa da Pier Nicola che è uno dei miei maestri Pier Nicola De Maria che è un formatore sul marketing che lui diceva che quelli che fanno il conservatorio odiano i chitarristi che si mettono la ne 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 la suonano la chitarra e si mettono la fa la canzone del sole no un mare te la pensa per rimorchiare e quelli del conservatorio ovviamente li odiano a morti dice cazzo faccio un culo così per suonare la chitarra questo fa tre accordi dopo due giorni per suonare la chitarra le femmine e e quindi che cosa succede che però mentre tutti i miei amici che stavano lì no devo suonare la chitarra a fare esercizi tutti i giorni dopo due anni avevano odiato a morte la chitarra quelli invece che hanno iniziato così hanno continuato cioè io avevo suonato per due anni il pianoforte con solfeggio bla 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 due palle così cioè per un anno questo mi ha fatto toccare il pianoforte oh sto fa piano fo do re mi fo cioè volevo fare le canzoncine a casa comunque dopo due anni cioè mi è venuto il volto a stomaco che il pianoforte non volevo vedere più dopo quattro anni che c'era la canzone a primi di di Jan Tirsen dice no io questa canzone la voglio imparare così mi sono messo là e l'ho imparata ho reimparato a suonare il pianoforte e lì poi ho imparato canzoni di Enaudi Giovanni Allevi tutte canzoni che mi piacevano e mi sono accorto che mi piaceva suonare il pianoforte quindi quello che vi consiglio di fare è proprio cercare di non utilizzare il palazzo solo per l'università cioè cose che dovete fare per forza ma cercare di utilizzarlo per cose che vi piacciono per facilitarvi nella vostra vita nelle vostre passioni perché in questo modo associate piacere al palazzo e allora dopo vi viene voglia di usarlo non imparare in autostrada spacca prima il muretto di casa tipo viene a ridicolizzarti ai corsi di memoria prendendo i loci mentre balli cioè l'ho scritta tutta questa non devo dire avete capito no? cioè nel senso all'autostrada è l'esame ho fatto la metafora un po' complicata scusate il muretto di casa invece quando sei a casa questo si capisce che cosa vuol dire? vuol dire non rischiate direttamente dall'esame raga cioè è ovvio che vi cagate sotto cioè arrivate all'esame che dovete sperimentare tutto là non avete dei riferimenti state lì e dite oh e se non appare l'immagine? e poi non appare ovvio perché non sentite che la vostra macchina sotto può reggere ma è come andare sull'autostrada bagnata con la pandarella che puoi sbandare da un momento all'altro e grazie che state cagate sotto cioè se invece state sulla Ferrari bella tutte tranquille andate dritto veloce se vi divertite no? è normale quindi cercare di creare di tenere conto di questi limiti perché altrimenti si rivoltano contro di voi qui non dovete fare nessun esercizio pratico specifico dovete solo cercare di riconoscere questi meccanismi perché agiscono contro la vostra volontà cioè in maniera inconscia ok? quando li riconoscete ah ecco perché mi cacca sotto capito? quindi gli esercizi per caso in questo modo sono provate a memorizzare 20 parole in 5 minuti scrivete questo quando provate a fare questo esercizio vi rendete conto che magicamente è possibile cercate di farlo proprio con i logici che vi ho mostrato oggi non ci abbiamo messo un po' più di tempo perché abbiamo fatto le ripetizioni era una cosa che comunque dovevo fare tutti quanti quindi datevi questo esercizio perché poi se memorizzate 20 parole in 5 minuti quando guardate una mappa non vi spaventate più ok? perché riuscite a farvi un calcolo queste 20 parole ve le fate adattare da vostra madre oppure dai vostri amici un po' più complicate magari giocatevi le birre guardate il vostro piano annuale cerchete di capire dove potete fare i kamikaze cioè se c'è un'occasione del genere per voi sfruttatela cioè se ora è finita la sessione però c'è quell'esame che avete solo una settimana e dite vabbè ma lo preparo questo buttatevi ragazzi è tutta esperienza perché più esami fate meno ansia avete per l'esame successivo più cose imparate e più 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 Grazie per la visione!